Sono scattati il primo gennaio gli aumenti della tassa di soggiorno per i titolari di locazioni turistiche nel comune di Venezia. Sempre alberghi e bed and breakfast le tariffe restano inalterate, chi decide di affittare la propria casa si troverà a far pagare in alcuni casi anche il triplo dello scorso anno. Dagli 1,5 euro a persona si è infatti passati a un minimo di 2 fino a un massimo di 5, a seconda della classificazione catastale dell'immobile, un criterio che ha fatto insorgere l'associazione di categoria dei proprietari. Siamo in conoscenza di palazzi veneziani che sono non dico faticenti ma poveri quasi, che quindi cercano di mantenere la loro struttura anche facendo questo tipo di accoglienza, dove il turista si trova a pagare 5 euro al giorno, come un 5 stelle. Lo troviamo un po' in Iqua. La nostra associazione, annunciano dall'ABBav, ha deciso di avviare un'azione legale contro questi aumenti di fronte al garante della concorrenza. Noi troviamo che appunto questo tipo ci sia fatta un po' una caccia alle streghe nei confronti di questo settore. I piccoli proprietari non hanno avuto finora una forte lobby come quella degli albergatori, proseguono dall'associazione, anche per questo forse sono usati sempre più spesso come capri espiatori per tutti i mali di Venezia. Ma non siamo noi responsabili di un ventennio di politiche scriteriate in centro storico e siamo pronti a difendere i nostri diritti. C'è, esiste e noi le abbiamo e siamo anche disponibili a presentarli strutture, gente che ha realizzato e ha impostato il suo stile di vita proprio affittando un bene di proprietà, non avendo alternative lavorative. Perché la realtà è questa, Venezia, una politica è stata fatta a Venezia, non sulla residenzialità. È ventennale il problema, adesso sta scoppiando la patata in mano a questa nuova gestione comunale.